Palazzo Cisterno ha ospitato due intense giornate di confronto sulla gestione delle risorse idriche in un mondo che sta cambiando velocemente in Europa come in Africa. È un'iniziativa di Idroei della Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo che ha sede a Torino in collaborazione con la città metropolitana e la rete Arco Latino e con il sostegno finanziario dell'ATO3, l'autorità d'ambito per le risorse idriche del torinese. Dobbiamo realizzare una crescita sostenibile che è alla base degli obiettivi che erano stati fissati dall'agenda 2030. Significa che non è sufficiente semplicemente per seguire l'obiettivo di un'acqua potabile, di un'acqua pulita, di un'acqua che possa essere messa a disposizione di tutti. Ma occorre anche qualche cosa di più perché occorre evidentemente salvaguardare la salute, occorre evidentemente superare le sacche di povertà che esistono. Questo è il concetto di sostenibilità che è un concetto trasversale a tutti i 17 obiettivi dell'agenda 2030. Il dialogo fra esperti europei e africani e la tavola rotonda internazionale su acqua e clima coordinate comuni per un dialogo tra Europa e Africa hanno riguardato l'analisi e il confronto fra i diversi modelli di governance dei servizi idrici, le buone pratiche locali, le sfide che il tema pone allo sviluppo sostenibile. La prima cosa da dire è che Arco Latino risponde a una richiesta della città metropolitana, molto sensibile al tema dei cambiamenti climatici e agli effetti che hanno sull'acqua uno degli elementi base per uno sviluppo sostenibile. Credo che questo possa essere l'inizio di un dialogo interessante tra l'Europa sviluppata e l'Africa che deve ancora svilupparsi. Entrambe si devono unire in relazione all'acqua, un elemento di cui a volte ci dimentichiamo che scarseggia. Il problema dell'acqua è anche uno degli obiettivi delle Nazioni Unite nell'agenda del 2030. Per l'acqua si possono anche combattere delle guerre, questi conflitti possono essere prevenuti? Assolutamente sì, questi conflitti possono essere prevenuti e si possono prevenire con la cooperazione, quindi con progetti di collaborazione, col dialogo e soltanto così si prevengono, anzi diventano una sfida per la crescita perché l'acqua è lo strumento fondamentale per la crescita. Grazie per la visione!